Gentilissimi visitatori, benvenuti nel mio canale. In questo video parleremo di rimpatrio sanitario e di rimpatrio di salme in territorio italiano. Per quanto concerne il rimpatrio sanitario, nel caso di ammalati che necessitano di un ricovero ospedaliero in Italia, la rappresentanza diplomatico consolare invita i familiari a individuare una struttura medica nella quale il connazionale verrà ricoverato una volta giunto in Italia. Nel caso di difficoltà la sede può chiedere alla prefettura di individuare la struttura sanitaria. Le rappresentanze diplomatico consolari devono inoltre acquisire un certificato medico in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio, la cosiddetta trasportabilità aerea del paziente. Per i rimpatri sanitari può essere concesso un sussidio a favore di connazionali indigenti stabilmente residenti nel paese straniero o un prestito con promessa di restituzione a favore di connazionali di passaggio in stato di temporanea indigenza. Per il ritorno in Italia su aerei di linea utilizzando, se necessario, il servizio di barella e una scorta medica a bordo. Per i connazionali colpiti da malattie che non consentono di firmare la promessa di restituzione, qualora i congiunti non possano provvedere al rimpatrio, va acquisita la documentazione medica di temporanea incapacità di intendere e di volere. Le rappresentanze diplomatico consolari forniscono assistenza in caso del rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all'estero. In questo ambito provvedono alla richiesta di autorizzazione al comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri se il decesso è avvenuto in uno dei paesi che non hanno ratificato la convenzione di Berlino del 1937 e al rilascio del passaporto mortuario. Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi, breve appuntamento, presso l'ufficio consolare e produrre la seguente documentazione. 1. Certificato di morte. 2. Certificato della competente autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza. 3. Certificato che attesti il decesso in zone esente da malattie infettive e di natura endemica. Vi ricordo che gli stati che hanno ratificato la convenzione di Berlino concernente il trasporto delle salme sono Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica cieca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia. Con questo è tutto. Per ulteriori informazioni e delucidazioni vi invito a rivolgervi alle rappresentanze diplomatico consolari italiane ubicate nel paese di vostro interesse. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al mio canale al fine di rimanere aggiornati e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.